questa è una mitica 500 di che anno? 1967 1967 una fiat però è una fiat fatta in italia a materio operai italiani ingegneri italiani lavoratori italiani prodotti italiani adesso campacavallo però questa va quanto fa con un litro? 18 litri massima velocità? andiamo anche in ferie con questa spettacolo massima velocità? 99 a 90 decappottabile ma figata dai si può tornare a questi tempi goiosi si può dai ci vediamo al point